Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha aperto ieri sera al Teatro Agusteo il festival di letteratura noir Le notti di Barliario, rassegna promossa dall'associazione Porto delle Nebbie, presieduta da Piera Carlo Magno. Lo scrittore napoletano ha presentato in anteprima nazionale a Saderno il secondo albo della raccolta a fumetti dedicata al commissario Ricciardi, edito dalla Bonelli Editore e disegnato da Lucilla Stellato. La collana prevede altri due volumi, quattro in tutto, La condanna del sangue e il titolo di questo secondo volume sceneggiato da Sergio Brancato.